i piccioni. I can fly, fly, you can fly, you can fly. Marzo mi dici quali potevo fare? Ma lo schermo deve rimanere al contrario, l'ho appena rimesso a posto me. Ma te ma sto morosium quanto scasso è il cazzo? Ma è sempre quello? Ma gli diamo un bambolo di 10 minuti, zio porco? E che cazzo? Sempre lui. Ma comunque ti do sta notizia, dobbiamo scegliere i quiz per poterli fare. Allora Marzo mi devi dare i quiz, ma io credo devo rimettervi lo schermo, vero? Eh sì, devi rimettere lo schermo, i quiz te li ho dati, c'è il link te l'ho dato, ma scegliamo velocemente quali facciamo. Quali devo levare? Anche quindi possiamo scegliere tra l'uno e l'altro, comunque Crono News no, 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 sì, sì, no, no. Guess the age, se lo vuoi tenere, ok. Guess the angle è in caso al posto di angle, quindi vedi tu. L'hold le no, namb le no, nerd le sì, parola chiave sì, pocket le no, cord le no, perché questo era quello strano, vabbè odio a te te apre quello normale, quindi tienilo. Rank le no, perché fa cacava, affanculo. Songless dipende se lo vuoi sostituire a quello di Manuxo. Stark le no, Time Gaster sì, Toto Quiz non so se lo vuoi tenere, Travel no, Travel Rita no e Wardle no. L'altro sì. Ok, facciamo questo per primo? Eh, quello del primo non lo vuoi finire? Quale? No, era solo per mettere la parola all'inizio. Ok, vabbè, dai. Facciamo questa al volante. Questa è Elvis Presley, quindi? Eh sì, ma sta proprio l'ame, sa, no? Non è lui. Vabbè, ma questa è roba di... sì, vabbè, ma questa ziste, pantaloni... Allora, pantaloni da zampa di cavallo, quindi, che so, anni 70? Quindi dai ragazzi, ce l'hanno tutti. Sì, 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 da 70 è l'anno... Che so, 70 se non sbaglio. Non so solo se è Inghilterra o America. Inghilterra, Inghilterra, fratello. Eh, questa è praticamente Inghilterra, perché è 60-70 se non sbaglio. Per me anni dei Beatles. Ma questa è pure roba... Forse non è Londra, però. Andrei a Londra. Londra no. Zona Liverpool, Leeds, Sheffield. Raga, ma Elvis non era americano. Sì, però è diverso. Ma si vede, questa è Manchester, raga, trassate il molecolare. Questa, la prima ce la butto io. Lì, Precia. Porco di... Era Londra. Era Londra. Cazzo, dai, hanno 77. Get fucking car. Vabbè, tanto dobbiamo fare. 25.000 dobbiamo fare. Ah, oddio, questo lo so. Vabbè, Dublino, Dublino, Dublino. We love Dublino. Ma è attento, Marzò, perché c'è il portale che collega... È quello che è in America. Sono due questi. Uno è a Dublino e uno è in America. Solo che qui non so qual è dei due. Questo è in America. È in America, ma dov'è? New York City, raga. Sì, sì, è New York. È il Bayer di Dublino. No, dove stai cercando New York? Ti prego iddio. Qui. Ok. Eccolo, lo so. Non penso che sia Dublino, Marzò. No, 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 probabilmente no. Se là c'è sito where New York meets New York... Eh, l'anno dovrebbe essere questo. E che è questo, tipo? 2023? No, 2023. 22, mi sa. No, 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 io non mi si su Twitter qualche mese fa. Vai tranquillo. Vabbè, no. Vabbè, no. Ragazzi. Mamma mia, non abbiamo senso. Non abbiamo senso. Mi fa girare il cazzo. Non fa no, no, dai. Leggi... Com'è che? Leggi il giornale, già. Dello combustibile. Questa è il Messico? Questa è roba di Cuba, secondo me. Carbato di Cuba, sì, tipo roba... Uruguay. E sta fatta Uruguay. E sta Uruguay. Dici, frate, eh? Potrebbe essere. Mexico, lì c'è scritto, eh. In alto a sinistra. Dove? Eh, vedi, è il Los Messicos, quello là. Mexico. Università del Mexico. Allora è Mexico. Città del Mexico. Vai, città del Mexico. Giorno, anno, anno. Boh, 50. Stavo vomitando. 50? No, no, no. Troppa qualità per essere gli anni 50, secondo me. No, in realtà ci sta una logica. 50? Guarda le macchine, già. Sì. Mato 50? 50. Sì, 50, dai. Metto 53. 54. Vabbè. Ma era 56. Questo è uno, ma siamo andati. Vabbè, regà, ma ti pavamo gillato, cioè, stavo, 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 stavo a 26.000. Zoom a il cartel? Svizzera, svizzera. No, c'hanno tipo il 2A, potrebbe essere in linea. Svizzera, che sembra esagerato, fratello. Svizzera, sta roba. Fidate. No, non è la svizzera. Nemmeno Wondevianco. No, no, regà, non... Queste le catene, queste le catene più, più al nord. Non è la svizzera, regà. Ma secondo me non è la svizzera, regà, sono pesce. Vabbè, pesce, pesce, vuole fare la gola, famogli fare la gola a pesce, dai. Così, dimmi pure l'anno, pesce. Eh, anno, frate, me sa, 95, tipo. 95? Mazza, secondo me, ma questa l'avevamo fatto, avevamo 20 punti. Ah, vedi, pescione, oh. Location 4.300. Bene, eh, manco troppo male. Ammazza, sì. Ma già, dimmi stop, dimmi stop. No, Atlantic City, c'è scritto. Ah, quindi? Atlantic City. Ah, nell'Atlantico? Eh, no, 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 vicino, dalle parti, tipo, verso New York, da queste zone qua. Sono due i posti dove si fanno i casino. Las Vegas e Atlantic City. La vedi? Sotto, Filadelfia. Sotto, 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 sotto. E anno? Boh, boh, 50, pure qua, 60, 40. Grazie, Marzò, mi hai dato 30 anni, mi hai dato. Fai 50, dai, fai 50 e sei e mezzo. Eh sì, dai. Era il 21, però guarda la città. Oh, però gli stai andando a casa, eh. Eh, guarda la città come te l'ho presa. Zero punti su Asuier, minchia, Marzò, 37.000. Bene, eh, manco male, neanche troppo bene, neanche troppo male. Bene, intanto è win. Eh, chef, mi parli, per favore, della Champions League, un 93-94, per favore. Eh, bro, non ero nato, mi dispiace. Com'è rinato, va bene, me ne parli lo stesso. Come non è rinato, cazzo? No, per favore, non lo sei. Barcellona, Spartak, Mosca, uno. Ma sei ok, uno, va bene, poi? Milan, Arnlect, uno. Ok. Arnlect, uno. Ricordo che sono 15 totali, ne dobbiamo beccare almeno 7. No, frate, allora no, un attimo, fammo una testa. Eh, appunto, vai, dimmi, dimmi, dimmi. No, no, dimmi. Abbiamo una pagina, tipo. La voglio proprio, sì, sì, dai. Ma questo è un bel X. X, ok, poi? Che è 2016 lì vicino? Ma è strong. Eh, uno. Ok. Porto uno. Il maestro ti direbbe troppi uno, ci deve stare almeno un due in tutte queste. Ma signori, la verità è che Pesh, l'abbiamo preso tutti e cinque. Vabbè, oh. Vabbè, oh, manco male. Non c'era manco un due. Buone, azze, il UEFA Champions League 2019-2020. La fari fare a Manuxo. No, io non me le ricordo queste. Pesh invece conosceva benissimo la Champions del 34, effettivamente, del 93. Ok. Lione e Bayern, vabbè, il Bayern è devastante, dai. Due. Ok. Penso proprio il Real Madrid. Ahà. 2019-2020 mi sa che vinse l'Inter, che... Ah, no, no, no. Fa il triplette 2010, eh? No, lo so. Vabbè, l'Ipsia metti meno due lì. E qui la metti che vince il Chelsea. Mette una X all'Inter. Eh, va bene. Porco, lo sapevo che aveva vinto il Barcellona perché ci avevano fatto gli sfottò. Signori, per la prima volta in Toto Quiz, incredibilmente, la prendiamo, che ne manca ancora una. E questa la facciamo io e il maestro, con tutto il rispetto. Marzo, dai, vuoi fare un posto di 2020-2021. Siviglia, State Rennes. Che cazzata. Uno. Giustizio. Zenit Lazio? X. Ok. Se mi posso permettere, andrò a mettere qui il Barcellona. E poi andrò a mettere il Barcellona. Questo me lo sai dire, invece? È una X. Signori e signori, eccola la betta, 5 su 5. Vabbè, regà, amochillata però, zio. Vabbè, amochillata bene. Abbiamo preso a quando, è 10 su 15, no? Mileno, Mileno e Miles, Mileno e Miles, e te fammo vedere una cosa, va. Mo dà, fammo vedere. Quando rifammo? Quando te pare, sì. Soprattutto era Bono e il Swish. Te fammo vedere una cosa, ma non te spaventa troppo. Marzo. Bye. E' paleso. All I have is the man. Questo è Sweater Weather dei Denegborod. Perché potrebbe essere? No, secondo me, secondo me, because I'm... Oh, ti fidi di me. È Sweater Weather dei Denegborod. Sweater Eater. Bella, gue. Se l'ha aperto il sito prima. All I have... Va bene, niente. E' fai? No, non la so. Boh, parei Link in Park, non lo so. Ipa? Metal Gear. No, Metal Gear. Ma non è Castle of Glass? Eh, sì, sì. Si può essere. Vado. No, non è Castle of Glass mai. Però non è Castle of Glass. No, mai. Però sti cazzo. Non c'entrano cazzo. Però sempre roba dei montaggi può essere. No, no, no. Ma lo so. Cittino. Dobbiamo prendere due su tre, ragazzi, ricordo. Questo è boss. Questo è il rock, ma non me ne sono. Non me neanche io, sono sul rock poco. Eh, schifo, Giamma. Eh, sentiamo di più. Scusami, devo bannare le persone in chat da me. Perché non ce l'hai in mod? Mi hanno tiltato Guanciale e Marco. Regà, io la conosco questa, te lo giuro. Giamma, ma che t'ha ricordi? Mi avranno fatto 20.000 montaggi, po'. Io, ma come si chiamava? Scusa. Dico una cazzata. Ma non è New York, gira? Non è dei Foo Fighters, è possibile? Quella è... E sarà... No, Foo Fighters, cioè, famose erano dei pretender, tipo pretender, Tipo, una cosa del genere. E l'altra... E qual è il montaggio di questo? Giamma, Code 4, Agua. E l'Open Air di Agua. Madonna. Non mi ricordo il titolo, però. Entrò negli Ubey, poi. Ma pure nei Fits. Ubey, Agua. Pensare sì, eh. Però era Agua con la Q. No, però non so. No, con la G, era proprio Agua, quello che diciamo noi. C'è stato il clan contro gli M200 con l'acqua e base. Ed era Code 4. La prima clip era su Vacante, mi sa, che faceva... Sì, o Alta Vegetazione, addirittura. Madonna, che schifo di mappa. Ma Code 4. Però non mi ricordo il titolo, già non la so, però. Secondo me so i Foo Fighters. Prova. Non so. Non so quante canzoni... Quindi questa non è. Vesto few e The Pretender non è perché le conosco. Ah, non la conosco. E quella conosco di brutto la conosco. Swish and Blankland? Non credo sia Swish and Blank. Swish and Blank. Milano, regà. Possibile. Forse è MF. Io ho il titolo, però non lo so proprio. Conosco la canzone, ma il titolo non lo so. Quindi... Puntiamo alla prossima. Andiamo a quella POF, dai. So skillare troppo tardi. Ma non so. Troppo tardi. Skippamo? Ah, sì. Andiamo alla prossima. Non la so. Sulla testa dei Voo Fighters. All my life. È quella, Gianma. È quella, eh. Ti puoi dare a sapere. Baxter, grazie di 5. Andrò lato, poi. Eh, dalla prima cosa... Eh, no. Neanche io. Dicero, accoci. Mm. Mm. Eh, ma è così... Questa è questa la... No, non so. No, non ci arriviamo, insieme. Sì, sì, sì. Sì, è appena un po' di più. Cash Money AP. Ah, ok. Lo sai dire che... No, no, no. No, no, no. Cash Money AP è il producer. È il tag, è il tag, è il tag. È la tag del producer. Cash... Mi senti la voce del... Del cantante. Eh. Oddio. Eh. 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 Ma sembra... Non sembra... Ma sembra... No. Ma già, ma è un altro skip e la prende, ma non so. No, non so. Chi è? Che il suonere dovrebbe essere... Sì, sì, la prende. Allo skip. Ma do... Che cazzo di... Questa era 2018? 18? 18? 18? Mi sa che è Lil Skies. Full guys? Lil Skies. Questo mo' è tipo finito nell'oblio, non sono in cura più nessuno. No, è distaccato Skies senza Y, non se non sbaglio. Lil Skies. Questo è stato un talento sprecatissimo. Che è il last, no? Tra Cloudy Skies. Non me lo ricordo, è il titolo non me lo ricordo. Ok, no. Quindi, siamo sicuri che Lil Skies... Io sono sicurissimo. Eh, ma non so che devi fidare, frate, non io. 2018 era. Io non ho la prima. Ah, fammi senti un attimo i Lairix. No, ma non era un featuring, non era un featuring, non era un featuring. Mi piacerebbe poter sentire. Non dice nulla di rilevante rispetto a... Il titolo, onestamente. Dice solamente che scopa e che è aggressivo. Oh, ma Dio. Scusate, eh. No. Ditemi. No, 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 no. Io stavo dicendo, cioè, se non è un... No, non è un feat, sicuramente. Se non è un featuring, è... Cloudy Skies, tra un momento, ho su due, è un featty fitty. Metteva la prima e vaffanculo. E' un fenomeno, rispetto. Banco, ma... Però neanche troppo male. Manu, no, un giaci, bentornati e benvenuti. Eh, Cordley, ovviamente si inizia con Troia. E poi possiamo... Oh, ammazza! Signori e signori, parola chiave. È tempo di darmi la parola. Francesco, qual è una parola che si collega meglio dell'altra? Passivo, bro. Avrei detto fuoco. Oh, Dio. Eh, avresti detto giusto. Anello di fuoco, palense, fratello. No, fratello, è acqua, è acqua e è elementi. Dici? Eh, madonna! Non è elementi, però. Mattino. Mattino, dici? Eh, sì. Secondo me è tipo tramonto. No, aspe, aspe. Rosso? Mattino. Aperta. Può essere... Può essere l'oro. La parola, cioè oro. Oro? Mattino c'ha l'oro in bocca. Nell'acqua si trova le tracce di oro. Fuoco è giallo come l'oro. Una cazzata, me? Non lo so, eh. No, 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 potrebbe essi, invece. Eh, scusa, non sognare. Sopriamo le altre. Aperta. Somma, una figa di mia madre, non lo so. E qua, secondo il maestro, dovrebbe essere rosa. Oro rosa. Eh, ma cosa, raga? Cioè, il problema è uno. Nella parola, ma già non... Prova rosa, zio. L'acqua non la collego a loro, però il resto si collega bene. E rosa, secondo me, si collega a tutto. Tu hai rotto il cazzo. Becchi le parole e poi non sai la parola, eh, pesceo. Ma, sti, io c'avevo il problema. Io fino al mattino per me era tramonto. Però non è. Eh, raga, io vi ho detto che mi ha mai sbagliato. Cioè, non lo so. Aspè, aspè, aspè. Cos'è che lega? Cos'è che lega fuoco e acqua? L'estintore. Estintore? L'estintore. No, no, no. No, frate, non puoi. Allora, io devo aiutarlo. Aperta. Do, 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 do. Marzo, domani se vediamo, se vediamo tu talenti dei pischelli con Grimbaud. Eh. Dai. Allora, fuoco, acqua, mattino. Marzo, me riseri. Vabbè, ma tanto faccio tutto. Scusa, mattino, dai, il mattino c'ha l'oro in bocca. C'ha pure senso, però. Mattino, oro in bocca. Eh, bocca di fuoco. Bocca aperta, quando rimani a bocca aperta. Bocca di fuoco. Bocca di roca. Acqua in bocca, il detto, e la chiamavano bocca di rosa. Bocca per me. Brava chat. Madonna. Non l'ho guardato la chat. Bravi ragazzi. Bocca non era male, non ce l'ho proprio pensato. Bravi. Ma manco per niente. Mi piace anche il fatto che ci fosse riferimento a De Andrè. Ah, Marzo. Io l'ho pensato così. E questo è l'angolo diverso. L'unico pezzo di merda. Vediamo se è quell'angolo che ormai ci hai fatto l'abitudine e le sai tutte, coglione di merda. Dai, sono curioso. Questo è 184. Ma apro la chat. Porco. Madonna, Marzo, è un fenomeno. Il bastardo l'ha detto e l'ha fatto. Il bastardo ne sa, ragazzi. Il pezzo di merda ne sa. Ma il maestro sa anche riconoscere questo gioco? Ok, sì. Porco no. Mi sa che è Modern Warfare 2, ragazzi. Ma vattene a prendere nel culo. Ma non scherzare, ma che cazzo. Però è un Call of Duty. 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 Ma il MW2 dobbiamo da 421 km. Però tu mi dicevi quello vecchio. Questo è il remake che pensavo. Io l'ho schippato. No, è schippato. Ah, sì, è il 4 Remastered. Eh, sì, frota. È come... Si chiama Modern Warfare Remastered. Sicuro? Sì, sì, sì. Il 4 si chiama Modern Warfare Remastered. E non c'è, ragazzi. E allora sarà questo. Call of Duty 4 Modern Warfare. No, con questo non lo sa la dire. No. Eh, però, raga, un momento. Riprova, riprova. No, no, è proprio quello, po*****o. Cioè, lo so. Ma Modern Warfare è il primo, proprio. Ma scrivi, scrivi Modern Warfare Remastered. Modern Warfare abbiamo già... Ah, no. Sarà questo, è vero. Sì, è questo, raga. Buono. Buono, buono. Bene. Neanche troppo male. Non di Modern Warfare. Signori, dobbiamo almeno beccare tre persone con una differenza di età di al massimo due anni. Vabbè, questo metti cinque anni. Questa la sapesh. Metti cinque e prendi sicuro. Come la sapesh? Ma andrei più sei, forse? No, fai cinque. Quattro, questo c'è quattro. Fai cinque. Fai cinque. Vabbè. Per i casi così, per due sei tranquillo. Quanto ci capisco dei bambini. Manu, Maru, Prime, bentornati. Oh, justron. Esce tra dieci anni, raga. Ah, vabbè, ragazzi. Sono già così, cioè, non è che... Trentacinque? Vabbè, Eduatan. Avrei detto trenta. Porra, tu dillo prima, pezzo di merda. Questo? Questo è fan, vent'anni. Hai casato, Marzano preso? Ma che cazzo si dite questo? L'odio. Come sedici? No, ma se non mi dà fastidio la faccia. Vabbè, questo è napoletano, dai. È napoletano, questo ce n'avrà venticinque. Ma questo non è il portiere, è quello dei cosi che guardiamo noi, Giamma. Ma, che mi fanno vedere te? Questo è... Mettono venti morti al giorno, mettono il tuo cazzo di ragazzi. Mamma mia, ragazzi. Il dio della... Amo vinto, eh. Amo vinto, vai, vai. Amo vinto, amo vinto. Ah, che ventiquattro? Zaro. Quattordici. Diciasse. Madonna. I will never fall in me. Oh, oh, orti. Vabbè, poi lo farò io. Allora. Togli l'angolo, però, l'altro già, che abbiamo fatto quell'altro già. No, Marzò. Adesso mi dai anche quest'angolo. Vai. Storchietti, Prime, bentornati. Partito treno. Butta dentro treno, dai. Fai bene. Come fai? Fai bene. Quello è un angolo acuto. 284. Levagli 45 gradi. Quale? 280 qua. Quale, Marzò? No, è 360 meno, Bugio, ho sbagliato a fare il calco. Eh, meno 45. Oh, di più. Quello è 90, coglione. Non 45. Secondo me non è 90, frate. Eh, no, non è 90. Probabilmente sarà de meno. Quello là, secondo me, è 79. Fammi 360. 766, 650. 19, 10, 9, 8, 3, 81. Vai. 281? Vai. Un po' di meno, forza. No, raga. Io ho dei 2,90, secondo me è 2,90. Eh, vai 2,90, che tanto? 2,88? 2,88. Sì, sì. Porco. Vabbè, 2,87. No, frate, può essere pure 2,86. 2,86, dai. Però proverei 7, io comunque. È più safe come scelta. Eh, no. Era 2,85. Tanto non valeva un cazzo, perché abbiamo fatto quello di pre. Vero. Da noi per le bet vale, contatelo, signore. Cioè, contato pure questo? Certo, volevo farli tutti e due, perché siamo i più forti. E allora quell'altro dovevamo fare next, perché c'era un altro gioco. Ma che cazzo dici? Eh, sì. Ant, bentornato. Eh, signori, il primo errore. Ma non vi preoccupate, perché la bandiera di oggi è Norvegia, incredibilmente. Con la B. Signore e signori, vi presento la Norvegia. Vabbè, dai, è facile. Dovresti conoscere questo, tu. Perché? Dai. No, sì. Non mi viene, Sri Lanka. Facciamo così, prova il Kenya. Madonna, è partita pistola nella Fendi. Ma che stai a scherzare? Ok, ti ovvio questo. Provai. Ma che è, verde, perché la dovrei conoscere questa merda? Ma non la saprai mai. Appunto. Perché stai facendo credermi che io la devo sapere? È Manuso che ha deciso che la devi conoscere. Per me tu l'hai detto una volta. Ma che? Ma tu Manuso la sai? Eh, Malawi. Datemi il cibo qua. Allora, fratello. Small pork sausage. La rose rice sausage, bro. Dai, è facile questo, dai, raga. Bro, so pazzo. Vai. Brasile. Ma madonna. Hunt, Snorked, bentorni. Mario, grazie per i quattro. Che dici che è, Marzo? Provo Mubresse. Brasile? No, zia, sarsiscia. Icecord, coglione merda umana. È all'inizio, è il Stati Uniti. Ma questa è roba. Questa è Germania, perite un attimino. No, no, bro, bro. Icecord, raga. Però Icecord Nord-Est. E dove cazzo sta? E allora è per forza tipo, boh, Finlandia. È troppo lontana, però. No, no, no. Non sarebbe Icecord così. E appunto. Quindi se fai il giro, però Brasile non può essere. O è Canada. Per logica, forse. No? Prova Canada, per vedere in un attimo dove ci emette. No, siamo ancora, ok. Sempre una merda. Ma ti dice West. Ma ce l'ha, Russia. West? Metti Russia, scusa. Lo so che sembra assurdo. Però per... Ma lo sai che mi sa che è? Per bussola. Eh, può essere, sì. Corea può essere. Ma sì. North Sausage, North Sausage. Ma cos'è? Posso però a Corea. Questo non è una idea. Tanto è all'incirca lì con la Russia e tutto. Fai Corea? Filippine? No, sarebbe solo Sud. Sud Ovest. E questa, bro, stiamo nella merda. Perché può essere... Mazzona, ma sai da che cosa lo vedi, Mazzona? Può essere Malesia, Indonesia. Sai da che lo vedi, da questo cartello qua. Sono i cartelli quelli là nelle strade, tipo lunghe, che sono tutti cartelli a random. Bro, eh, sai che te dico? Fai così e scrivi Thailandia. Eh, capito? Tipo roba di Thailandia. Taiwan. Cazzo, stanno volendo bombardare. Vabbè, facciamo... Tanto due su tre dobbiamo prendere, dai. Sì, due su tre, due su tre che fa la vale. Che piatto era. No, senti, ma che mine mi stanno partendo? Incredibile. Red pepper, salted cod, è un pesce. È un pesce. Sì, il cod è un pesce. Olive oil, garlic, black olives, onion. Questa è roba, posso dire, Finlandia-Ungheria. Fammi provare un attimo Finlandia. Quanto cazzo ne so. Ah, frate, questi sono i salumi di pesce. Li fanno tutti là. Li fanno. Eh, quindi, vicino Finlandia, che è? Sinistra. Prova Francia, scusami. Svezia pure, forse. Oddio, è troppo vicina, sarebbe, no, sarebbe... No, ma Francia non potrà mai essere. È per una questione solo di bussola, vedi? Oddio, confina con la Francia. Eh, brother, eh, allora, o è Andorra o è Spagna, se va verso sinistra. Cioè, non puoi sbagliare. Cosa è che forza Andorra? Eh, la Spagna. Eh, la Spagna. Si chiama S-Garrett. È roba cinese. Eh, Miami. Salsa di soia, oh. Salsa di soia. A me, fatemi provare, fratello. Cannella. Cannella, orai. Sì, che sta? Cina, 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 proprio. Cina, cina. Sottocina. E sarà Giappone? No, 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 no. In basso a sinistra, cioè, là della Cina, è impossibile. Fai Indonesia. E allora, signori, fai così con la mano, la prendi, perché sono una di quelle là. ma è strano però non usano lì sta roba è lo so però non può essere giappon giappon tutto a destra una roba dove mangiano simili giapponesi dobbiamo trovare brother thailandia vietnam laos quelle sa miammar malessia vietnam potrebbe potrebbe essere singapore ma guarda pure il singapore già ma so quelle ai due trai per prendere una di thailandia mianmar vietnam laos non lo so però regata il nome hai capito caocamu mi sa lì ma è vero perché da pure il nome una certo mi dimentico sempre hot e sta lì vicino allora thailandia e border laos e borders fina devi calcolare e sarà miammar allora o è ancora più via poi ancora più più a sinistra o se no e miammar però tra me la thailandia non con non porco non confinano dio un altro grave errore che mi porta in maniera molto depressa a gametle quando abbiamo sbagliati namo 1 per me due io ne conto due all'angolo oh cazzo ma che è incomprensibile così ma un'arma in mano adesso te lo dico io no questo è rock band ma non è battlefield regà no 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 questo è rock band è uguale però ah eh sì uno dei quelli ragazzi sembrava avessi una pistola era un microfono rock band 2 e qui è gasato e qui è gasato ma gasi ma è gta bro è san andrea si potrebbe esso quanto è bella la voglia ragazzi ho giocato un sacco di volte ma e che vuol dire un braccialetto quello unknown dei pokemon aging casual troppe poche cose coxhacking non c'è come gioco ma che vuol dire che ne so frate non mi ricordo mario graffari 4 segue il realismo aging la roba aging che si fu si ma segue the sims the sims porca oh porca vabbè dai no ce la fai ce la fai no 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 l'hai scelto il 3 già non te lo fa mettere no già marco l'hai già messo il 3 gli piace il 3 essere il 4 incredibile come sempre all'ultimo devo arrivare affamocca la stramorta mamma è famosa il segno da la croce frate ah si assassin's creed 2 e lo prendiamo si ciao core boom presa sopra il 2009 va bene solo single player single player attenzione the last of us 2 no servirebbe prima persona però ah si call of duty un code eh dovresti mettere sai che puoi mettere la campagna di mv2 anche pure parco i5 un 6 6 forse è troppo presto 6 ammetti per sé sti cazzi ehi 2021 prima persona non è ubisoft mo dovremmo provare qualcosa 2021 prima persona regà la campagna di mv2 quando è uscita eh però no 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 non è shooter la ce la fa no che cos'è non è shooter non è platform questo è the walking dead però non è prima persona ma non è the last of us 2 ah no perché è solo prima secondo prima ah no non è la chenu che riannata non è Sony e non è solo playstation non stavo messi bene no vabbè solo playstation è difficilissimo già le esclusive nei play non è che sono finite eh no potrebbe essere ps4 o ps5 però 2021 è l'anno post covid eh no bravo una grande memoria ma non so eh no sto cercando di ricordarmi qualche gioco tipo uscito nel post covid ah raga è il genere però cioè serve di brutto perché io così non ho idea ma non è niente già ma cioè è tutto rosso deve essere il genere del cazzo strano prova qualcosa dei carte già tipo il gioco io proverei pure un gestionale tipo che cazzo so un football manager ma prova a cazzo solo un gioco di carte giusto per vedere un attimo se il genere è quel tipo il Gwen quello de man mano de the witcher unity è coglioni l'ho sentito pure io che genere è ma che genere è questo non l'ho mai visto a business wow conosci un gioco della Ravenscort a cazzo solo per capire che genere può essere in cazzo non ricordo qualche evento che abbiamo che c'è stato sette ore e mezza di stream siamo finiti siamo a c tanto andavo non andavo a dormire lo stesso ma non è per dormire è per riposare tanto cambia il cazzo ah sì farming simulator 2020 tu direi ma come ma perché ma non è prima persona dream daddy è dead dating simulator oddio è un simulatore no è un unity wow grazie nel momento in cui era unity avevi già detto che era nendy che cazzo che è una bridge of spirits però non è prima persona sarà il sarà il lo neighbor 2 non lo so potrebbe essere sì e poi ragazzi ma per quanta roba è ma qualcuno l'ha giocato l'hanno solo fatto uscire eh perché a me sembra de no perché il titolo è russo perché gasa e io per un periodo una cosa come tre settimane ci avevo scritto tipo Lazio merda in tutte le lingue del mondo mi ricordo nadir gasava la gasava boh ragazzi io non lo so qualcuno ha un'idea no ragazzi credimi proprio zero un gioco è uscito un gioco indie tipo roba come l'imb sì ma sono tutti prima persona forse ma l'imb è 2010 ed è visuale laterale peraltro io non ho ancora visto il trailer di little nightmare 3 ce ne sono due già ma giocabili uno che è little nightmare 3 che però ha cambiato studio che l'ha fatto e invece chi ha cambiato che ha fatto little nightmare 2 ha fatto un altro gioco nuovo io mi devo masturbare beh raga boh non lo so cioè non ho idea io non ho capito ancora il genere cioè dovete pensare cose più strane perché tutti questi giochi hanno dei generi ben specifici vedi ci serve qualche gioco proprio strano ma sì non lo so ma non lo sapevo cioè è inutile non lo potremmo sapere Ravenscourt boh non lo so vai a cazzo allora cioè non sappiamo il genere è impossibile Child of Light ah Road 96 f***a lo conosco però io lo conosco boh e chi cazzo ci ha pensato però no se boh marzo senti ho voglia di farmi una un'equazione qual è il problema so che è un orario stranissimo però c'ho voglia come fai 51 aspetta 51 marzo 51 meno 1 meno 1 più cosa ma non è 4 marzo mi ha scordato l'uguale scusa marzo forse vuole fare 5 più 1 magari sì per qualcosa sì per 2 per 2 così da incredibilmente fare un'altra volta una cosa che non entra no no come no 5 più 1 6 ah no perché prima c'è 1 per 2 facciamo per 6 no così facciamo uguale a 11 ma fai un per 7 così uguale a 12 usiamo tutti i cosi pazzesco ragazzi sono un fenomeno e il più sta qua frate bam e te dirò di più questo è 34 più 60 uguale 94 bam buono secondo te c'ha una o tre cifre però già il più è qua il più è qua per forza e quindi sto e sai che mi fai mi fai già ma 711 no 719 179 mi fai fidate pure se c'è il 4 anzi 149 dai sono gay 149 più 8 con l'8 pure 17 ma insomma non è possibile l'hai fatto di nuovo no ragazzi 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 voglio piangere c'è qualcosa per me sono due più c'è qualcosa che mi lascia è impossibile che un numero a tre cifre appunto o era per 0 ma lo 0 non c'è ma c'è manco il perro io sono due più allora bru non possono essere due più sia qui che qui cioè non ci sta allora è un diviso boh si ma voglio dire che è lì oh ne sai ne sai potrebbe essere 714 140 446 spera un po' diviso 7 e il più non lo metti 21 più ma cazzo però no perché deve essere diviso 9 già e no a meno che non fai tipo 14 diviso 7 2 più più e più 1 7 uguale 9 oddio madonna ragazzi l'hai casata l'hai casata a mille a molla porco che cazzo di mostro porco che mostro eh in tutti i sensi marzo dopo troia che cosa mi dai e questo te l'avevo detto prima idola prova idola entra idola idola imola imola non può essere può essere i icona 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 ma non c'è tu sei una cazzo d'icona di stile water pischella gasato signori è tempo di cuore famme felpa vuoto felpa 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 no non mi piace non mi piace metti malto e qui mi l'hai però c'è già la t no frate marzo 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 e ragazzi mango mango bug mango casa è una mango dai un mango usa una sbracca di roba buona frate oh qui la sappiamo eh ma è quella è monto 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 come tua madre monto monto usiamo una e usiamo una e al volo e fai monto no e usiamo pelli no è bella no se 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 bello se se siamo i due orti di casa bella monto e allora è monto ok lì sappiamo che c'è una prima a sinistra quello sopra che è enni e o simone grazie il prime giallo bentro nella divina stalla di divina mancano altre cose ci l'abbiamo usata allora dobbiamo usare sicuramente la allora in alto a sinistra tra state mi e pendo si anche secondo me lo stavo guardando lo stavo guardando quello è pendo tre forze potrebbe essere anche fendo signore pendo oppure bendo si e pf felpa eh si si ma secondo me pure una b felpa intanto ci posso allora felpa l'unica cosa è che usiamo e quale lettere ci mancano quale lettere volete utilizzare voi e che capito vorrei vedere dove la b p f le dobbiamo usare pure d in realtà a b bad a lele pure la u potremmo usare come vocale vulva vulva ma non c'è cioè non ci serve vol ma c'entra p dovremmo trovare allora dovremmo trovare una parola che inizia con la non c'entra perché c'è questa che dobbiamo capire queste due quindi c'è una lettera che è una parola che inizia con la ma tipo ha dentro f e boh v o d b o d f che ne so a adolf con la ma adolf lo prenderebbe f d a boh ragazzi simone grazie foldo folda ma folda vuol dire lascia stare in inglese sono un pocherista dico dopo questi a a vido avido si c'è va magari meglio avidi per vedere se no è per vedere se qui finisce con la i ma sembra bella la falda acquifera eh capi f l fd è che usi la è che usi la sia dove già ce l'hai sia qui allora mettiamo avid avide avide no avidi secondo me avidi dai e non c'è e quindi pendo pendo ancora pendo 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 però raga che se qui c'è abbiamo tutta raga c'abbiamo d e r e quella che cazzo è da rai da rai da rai no lei non c'è da rai sarà il massimo no lei c'è 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 raga da rai da rai potrebbe essere ok ok ma raga c'è ah no ma la dina sapevamo già ah lì eh raga o pendo o bendo cioè pendo dai pendo 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 questo può essere ah raga 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 non rischiamocela usiamo una parola con p e f sicuramente tanto la trovi anche qui puff secondo me quella in alto a destra è abile abbiamo una f quindi è fendo questo secondo me è abile raga in alto a destra è abile palese si l'abbiamo usata c'è la l è abile è abile è agile non può essere buono ho casato stasera amo casata oddio 3 lose vabbè però 20 quiz praticamente già amo casata una volta ne facevamo 11 abbiamo casata qua abbiamo tirato fuori dal cappello amo casata allora marzo chi preferisci tra chigiri e bacira itele grazie a tutti